Ciao a tutti ragazzi, è venuto in questo nuovo video e oggi siamo qui e una cosa particolare che non ho mai fatto, siamo qui sulla Wayback Machine, perché non lo conoscesse cos'è, è un metodo che veramente internalizza nel tempo, nei siti c'è, di vedere come i siti erano una volta, perché sfrutta i backup che i siti fanno, perché in caso magari vengano cancellati per sbaglio o comunque chiusi, c'è un backup che quindi non si perde i siti in poche parole insomma, e stavo un po' catteggiando e ho visto che anche Discord ha una storia dietro, io mi sono detto, vabbè è impossibile perché Discord comunque, ero assolutamente vedendo in realtà come era Discord nel 2015, poi mi sono imbattuto vedendo che nel 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, fino al 1996 esisteva, quindi mi sono detto, oddio è lo scuro segreto, veramente ironico perché, non so perché il Discord esiste nel 1996, adesso vedremo che Discord ci ha mentito perché l'altro esisteva da un po' di tempo, non ci sono ironico, vabbè andiamo a vedere, andiamo a vedere, uno snapshot, che sarebbe un backup, in poche parole, del 22 dicembre 1996, delle 5.35 del pomeriggio, andiamo a vedere cosa, di cosa si tratta, cos'è sta roba, era un sito, che sito è, non riesco a capire che, cioè questo è scritto tipo una mia immagine, è tipo un tipo a caso che penso di Discord.com, ho messo qualche frase a caso e basta in poche parole perché, cioè, non traducendo tutto quanto che adesso non c'ho voglia, vado a immaginare che comunque sia uno che ha voluto fare una piccola biografia di si stesso, non so perché Discord, mh, vabbè. Allora, con questa freccia qua in alto passiamo al 1998, vediamo un attimo, due anni fa com'era, cioè due anni, sì due anni fa, due anni dopo com'era, vabbè, non è stata sempre uguale, ah non ti importa, però non ti, perché l'ho notato tantissime volte, ti porta al prossimo Snapchat, ok. Vabbè, allora andiamo qui, andiamo un po' più due anni avanti, perché le righe ogni taglia, ogni riguardo un anno, e qua comunque è sempre uguale, questo questo è stato l'anno al sit per rendere un nuovo, diciamo, va bene, andiamo qua, allora che qua è un po' più Snapchat, magari c'è qualcosa di interessante, eh, ah, credo che il ti disse che aveva fatto quel sito là, praticamente, cioè, l'abbia chiuso, e un certo, eh, buy, cioè un sito che praticamente ti faceva comprare dei, dei domini, insomma, l'ha già preso, insomma, il suo coso, non so perché si chiama sidiscore.com, ovviamente come ho detto qua, tipo, è un, cioè non era in confronto da nessuno praticamente, cioè era in venta, non lo so, boh, per esempio, dominis for sale, quindi, boh, vabbè, andiamo più avanti, magari qualcuno l'ha preso, andiamo qua che ci ha fatto, non lo so, eeeh, cioè, aspetta, aspetta, come, c'è, dice che praticamente qualcuno che ha preso il disco.com ci ha fatto un indirizzo, ehm, ehm, ok, c'è qualcosa che non mi quadra. Siamo finiti su un altro indirizzo, non è più discore.com. Sai ragazzi che questo sito aveva come, cioè, non so perché discore.com l'ha acquistato uno che ha fatto questo sito. Allora, sono un po' scioccato, io, spero di non essere finiti, però ho l'impressione che sia così. Ma scusatemi, ma... Fino al 2020, esiste anche i tempi di oggi sto sito? Ragazzi, se non volete, può essere esplicito, però comunque questo sito è un sito dark, che non dovrebbe esserci, che ha cose oscure, cioè... Ok... Probabilmente questo non vorrebbe nemmeno esistere. Eh già. Ma io ho più censura qua, perché... Credo che si possa far vedere su YouTube questo. Io questo, ho cosiddetto qua, è stato al 1199. Allora, qualcosa non mi quadra qui, comunque. C'è anche una chat room. Ok, meglio riusciamo, perché... Di qui c'è qualcosa che non mi quadra. Nel 2002, Discord.com ha avuto un indirizzamento a questo sito, perché? È questo che non riesco a capire. È sempre lo stesso sito. Solo che... Cioè, l'ha nominato anche Discord.com. Perché? Eh, raga, qui non dovrei entrare, sinceramente. Io penso che voi conoscete cosa è il Dark Web. È una parte di internet che non dovrete mai accedere. Non dovreste mai accedere. Perché ci sono cose tipo... Venite di... Sto'anno soppifacenti, queste cose qua, video un po' non adatti. Questo, diciamo, che è un sito che non è nel Dark Web, perché se no non potrei entrare con Google Chrome. Però è un sito che è pubblico in poche parole. Non l'hanno ancora chiuso? Com'è possibile questo? Andiamo più avanti nel 2007, perché mi sto un po' inquietando. Ancora! La serie più aggiornata? Quante catechi vampiri. Queste sono anche tipo delle storie horror, tipo delle prove di cose... Sono stati un po'... Un po'... Non mi si può dire. Un po' controversi, un po'... Dark, strani. Meglio che... Ho anche qua da mettere censura. Qua spiega anche perché le chiamate di Discord. Sì, ma sono dei racconti strani, tipo... Quei racconti perversi sulle anime. Ma è più o meno che andiamo avanti. Ok. Dopo, ufficialmente, penso nel 2015, quando è nato Discord... Nel 2016 addirittura. Ma come? 2017 allora? Sì, eccolo qua. Discord.com Ok. Quindi, nel 2017 in poi... Discord.com apparteneva all'applicazione che è adesso quella per sentirsi. Eh, eh, sì. Effettamente. Adesso si mette un po' a caricare, giustamente. Era questo che volevo dire io, sinceramente. Cioè, però poi ho visto che tipo c'è la mia prima notte, ho detto... Oh, cavolo, come esiste da sempre il Discord. Effettivamente... Questo è un po' diverso dai soliti, sinceramente. Oh, io sono un po' scioccato, sinceramente. Non ho capito come sia possibile questa cosa. Sta bloccando anche tutto. Vabbè, qua comunque sono vecchie page di Discord, magari non riescono ad essere prese. E adesso riusciamo a prendere il primissimo snapshot di Discord. Fondi primi. Vediamo. Ecco. Wow. Questo qua è Discord come era nel 2015. Non ricordo che ancora il sito come era fatto, sinceramente. E' sto così per un annetto due, poi l'ho cambiato. Vabbè, ehm... Io chiudo qui, ma sono un po' sconvolto. Io penso che comunque, cioè, io in generale, quando vado a solo Webback Machine, tipo vedo, tipo, so, per esempio, Instagram. Adesso voi non si vedete, se io lo vado a vedere anche. Cioè, Instagram, per esempio, una volta, se non mi ricordo male, era, ehm... Come si può dire, era, ehm... Un sito di 20, se non mi sbaglio, non so, qualcosa del genere. Comunque, adesso andiamo a vedere un attimo. Cioè, allora... Aspetta, scrivere... Ok. Sì, è su Instagram oggi. Ma ci sono anche dei backup del 2004. Non vedete quelli. Io comunque l'ho già visto, quindi non c'è nulla di strano. Almeno spero, non c'è nulla fuori al backup. No, comunque, a parte di scherzi, sarebbe scioccato. Non l'avrei mai mai immaginato. Eccolo qua. Questa cosa è l'altra era Instagram. Information.com Era una sorta di... Cos'era? Per i Casinogames. Era un tipo... Un sito di intertenimento, così possiamo chiamarlo. Poi è un altro Instagram. Vabbè, io... Non ho parole davvero. Io concludo qui, ma... Sono rimasto immediatamente scioccato. Non mi sarei mai immaginato che Discord... Cioè... Che Discord viva sopra un dominio oscuro, perché... Cioè... E la cosa è ancora più incredibile, che nessuno l'ha ancora chiuso col sito, cioè... Adesso io non vorrei dire, ma... Cioè, mi sa che posso andare benissimo a... Adesso andiamo indietro del tutto. Andiamo indietro del tutto, cioè... Ad esempio qui... Ehm... Cioè... Andiamo a cercare uno così. Ecco, viene fuori un po' di cosa. Ecco, questi si potrebbero essere chiusi. Non capisco perché non li chiudono. Vabbè, comunque... Io comunque ho comprato qui e niente, sono un po' scorsi, insomma. Vabbè, alla prossima. Bella, ciao, ciao. 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 Grazie a tutti